ciao a tutti un nuovo video scusate l'aspetto un po' un cliccio ma ho fatto la skin che era adesso che ho messo un po' qui poi con il mare, il fiume, se no un po' così per l'occasione mi ha messo anche le lucine nuove la ringrazia sempre con me il ventilatore è almeno spero non si senta questa anche la magliettina una persona più seria e non sempre strabaccata comunque partiamo con i prodotti finiti prodotti terminati del periodo che sono questa bella scatola ho finito della linea Ecos che non si vede neanche più l'elichetta è la detergente viso e mani quello con l'estratto di bardana antibatterico naturale che è una versione da mille millilitri e l'ho finalmente finita però è veramente ottimo e la consiglio a trovarti dall'antigotà poi proprio stasera ho finito la mia crema gel viso purificante da l'idea sempre ripeto dall'antigotà si carina e idratante per le pelli miste e grasse va benissimo anche per le pelli secche perché secondo me idrata molto poi ho finito l'acqua ricercare due in uno della linea sepa vegetale in veloce io avevo approvato il tipo di intelligente viso qualche anno fa la solita linea e mi ha dato il solito problema che la profumazione è troppo forte e dà fastidio alla pelle però il prodotto in sé è buono dipende se la profumazione vi piace almeno poi ho finito infatti l'ho ricomprato se avete visto il video non l'avete ancora visto perché è di programmazione gambe leggere già dell'equilibra io ve lo consiglio se soffrite di gambe pesanti tensione idrica gambe stanche volete un po rinfescarvi avete qualche capillare che vi dà fastidio perché qui dice intensa sensazione di freschezza ed è vero perché c'è molto fresco sollevo il benessere ed è vero aiuta a migliorare l'autocità della pelle dei capillari è vero io ve lo consiglio l'equilibra costa 7,48€ 7,45€ da quanto è? questo bel capillino da 125 euro stiamo parlando poi ho finito due di miei yogurt da bere questo è della Lend Fermente T e della Bontanova White Drink vedete sempre prodotti per esplorazione spuntini perché quelli riesco a esplorare le scatole perché quello che manco di solito non riesco a recuperarle come biscotti riesco biscotti da un po' sono le campanelle gel a meno bianco che le adoro e le adoro anche Elisa Pajolunga che ti mando un grosso baoscio poi ho finito come salviettine ah! un altro white drink la leggi della Bontanova reperito white drink deperito da penmarket l'altro da Lidl? forse Lidl? non so come salviettine ne ho finito tra vecchi ho finito queste Mr. Clean Algan Oil da 20 pezzi sempre reperiti in particolta in offerta all'alternation i tergimi salviette multiuso della Dealu in assento di acqua sempre prese da T-Gottas sono sempre 4 pezzi a 1 euro lì c'è protezione all'infilo sempre reperiti da T-Gottas non mi sono finito moltissimo quelle intime mi sono finito moltissimo questo della Fria intima e il servisario molto molto buono ve le consiglio sono le prime salviette fie che mi piacciono per questo il canto non mi sono finito poi ho finito l'Everine quando è sempre reperito da T-Gottas a 1 euro neanche veline da 80 pezzi quattro veli io per questo così poi ho finito 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 prima impressione non positive ho finito 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 balsamo il balsamo il balsamo ho finito ho finito che ho finito però sono ottimi poteri, sono boccioni enormi, quindi mi durano un sacco sempre i brochets ho finito questi campioncini campioncini, campioncini, campioncini ed eserciò nel suo trattamento riparazione più anti inquinamento che non so dove reperire, però lo troverò riparazione più anti inquinamento e trattamento risotturante per il normale mist mi è piaciuta tantissimo, se lo voglio andare a cercare facciamo un bel primo piano di buttarlo poi è finito l'eserciò del siero due campioncini buono anche questo della serum vegetale invece il siero e la crema notte se non c'è più un cibo, ottimi ho finito il basamo corpo nutriente amico che mango dell'idea mi è piaciuto questo è un buon idratante io uso i giganti così solo per mani pieni perché per il corpo mi sono sentita fatta me di colaggio di cocco però adesso sto utilizzando altri idratanti però ritornerò al mio modo del cocco questo è un buon idratante che non so neanche più no la prima mani ce l'ho però per il corpo è un buon idratante comunque basta un corpo nutriente al bicoca mango io ve lo consiglio dell'idea è molto molto buono molto profanello ultimo finito questa qui che è la Pure Caracol purifica idrati effetto matt la mia skin care mi è piaciuta un sacco adesso ho preso quella Lorea della Carbono del vasetto mi piace molto questa la riprenderò perché è molto molto buona ti mattifica la pelle e la purifica i terminati sono terminati non ne ho più spero che il video vi sia piaciuto almeno vedete che i prodotti lì non sono come tante che gli arrivano un sacco di prodotti e non usano niente perché non ti fanno vedere se è realmente l'usato o no quella mi dispettisce molto e se io comprendo le cose e faccio vedere che definisco e niente mettete che mi piace se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale perché è gratuito lasciate un commentino con i vostri prodotti terminati qualsiasi prodotto avete terminato qui sotto vi saluto e vi mando un grosso bacio ciao ciao